Buon martedì, ci siamo, buongiorno, buon martedì a tutti, siamo in diretta da Roma e il tempo è migliore, almeno c'è il sole, tra pochissimo andiamo da due donne pazzesche e anzi subito ci andiamo dai, della Spisni da una parte e Luisa Nameseri dalla ragazza del Mugello Vieni Zenith, saluta tutti, eccolo, abbiamo anche lui oggi, come sempre naturalmente Siete già stufi di stare un po' a casa? Un po' tanto, da un po' di tempo, eccolo qua Allora andiamo subito, intanto saluto Luca Frigeri, saluto sempre Andiamo dalla nostra Spisni immediatamente a vedere che cosa ci fa Troppo tempo che non andiamo da lei, delle tagliatelle pazzesche stamattina Avete visto la mia storia ieri? Allora, tagliatelle per lei e poi sono in prima linea tutte e due Prima di andare da WS Bologna, io voglio andare un attimo Ci sei Spisni? Sì, la connessione oggi è ok Una Luisa Nameseri non c'è, ok perfetto, a tra poco Luisa Nameseri Spisni Vediamo un po' se sei cambiata in questi X giorni Perché abbia chiamato una persona, uno di voi Uno di voi che ci stava ascoltando Chissà se potrà ricapitare, seguiteci sempre E adesso andiamo subito a postare le ricette che hanno fatto e buon pranzo a tutti Ci vediamo domani per l'aperitivo ma domani alle 12 mi raccomando